Musica Nome Fabio Giuseppe Cognome Pinelli Tricoli Anno di nascita 1969 1972 Dove sei nato? Montecatini Terme Seravezza Primo rally visto? Ciocco del 91 Credo un rally del Carnevale 1980 Prima gara disputata? Valdinievo del 1995 Rally Coppa Città di Lucca 1993 Con quale vettura? Peugeot 205 rally, gruppo N Opel Corsa GT, gruppo A Con chi? Alessio Baldi Con Vincenzo Salini Gara più bella disputata? Rally del Ticino in Svizzera Una gara proprio bella disputata? Beh, la gara del Catalunia nel 2008 Perché? La prima volta di una gara all'estero è sempre la più emozionante Rally del Catalunia nel 2008, l'unica partecipazione a una gara mondiale Gara più brutta? Maremma del 2001 Ma ricordo un rally dei tre comuni 2002 o 2003 Perché? Tutta la gara con l'idroguida rotta? Ma toccammo una macchina in trasferimento e il pilota con cui correvo non si fermò E successo un po' di mangello poi dopo al riordino di metà gara Cosa pensi del tuo ruolo? Eh, un ruolo con tanta responsabilità Ma ritengo il ruolo del navigatore un ruolo molto importante Fa parte di quello che è la globalità di un equipaggio Io ci ho sempre creduto, infatti non ho mai né provato né tentato di guidare una macchina da corsa Quindi secondo me ha un ruolo molto molto importante Cosa pensi del ruolo di chi ti siede accanto? È un ruolo molto molto importante, sono veramente dei grandi Ma è altrettanto importante Mentre un navigatore deve essere una persona precisa e puntigliosa Un pilota deve avere anche del talento Le doti di guida si arricchiscono, si migliorano Ma secondo me il pilota è talentuoso, il copilota un po' meno Chi vorresti emulare nell'ambito realistico? Carlo Sainz Ma il mio maestro è Carlo Cassina, quindi emulerei volentieri lui Perché? Mi è sempre piaciuto e sono cresciuto con lui come il mito Perché personalmente lo ritengo uno dei migliori navigatori mai esistiti Cosa pensi alla partenza di una prova speciale? Di stare attento e non sciupare la macchina prima del fine prova Ma in genere cerco di riflettere sui punti critici di quella prova speciale E se riesco li ricordo chiaramente al pilota prima di partire Cosa potrebbe distrarti alla partenza di una prova speciale? Non lo so, difficilmente mi distrago, sono troppo concentrato Ma credo niente perché è un momento troppo importante Quindi è obbligatorio mantenere una certa concentrazione Quali sono i tuoi principali sostenitori? La mamma tessera numero uno del fans club E la piccoletta Maelle tessera numero due del fans club Ma credo come tutti i genitori La mia ragazza e gli amici più stretti Cosa consiglieresti a chi vuole cominciare? Di partire sempre da una macchina piccola e ascoltando i consigli dei piloti più veterani Beh, di cominciare con molta cautela Partendo da delle vetture di piccola cilindrata E di avere tanta, tanta, tanta umiltà e voglia di imparare da chi ne sa più di lui Cosa faresti per migliorare la specialità? Tante cose Sarebbe un discorso molto lungo La sicurezza sicuramente a bordo delle vetture che è molto trascurata Ma personalmente io non regalerei più le licenze sotto pagamento Io istituirei un giusto esame di guida per i piloti e di precisione e attenzione per i navigatori E poi sinceramente acevolerei un pochino di più gli organizzatori Sul proprio la logistica e l'organizzazione della gara proprio a livello federale Di cosa avresti bisogno per migliorare la tua prestazione? Beh, questa domanda complessa Sicuramente di un navigatore che possa capire benissimo quella che è la mia psicologia Ma secondo me di gare ad un livello un pochino più elevato Ho corso tanto, ho fatto una gara di campionato europeo, una gara di campionato mondiale Quindi ormai l'esperienza è quella Poi non si smette mai di imparare Quindi forse qualche gara magari è il campionato del mondo Di cosa avresti bisogno per aumentare la tua visibilità? Sicuramente l'immagine è tutto per la visibilità di un pilota Eh, magari qualche gara del campionato mondiale con qualche pilota giusto La sparo grossa Quale gara vorresti disputare? Il rally di Monte Carlo Beh, penso il rally di Monte Carlo Con quale vettura? Basterebbe anche una 500 Beh, che domanda, con una bella VRC è sulla neve Cambieresti il tuo ruolo in macchina? No, non potrei assolutamente Non riuscirei a stare accanto Mai Qual è la vettura dei tuoi sogni? Ford Focus VRC La Lancia Stratos Cosa farai nel 2016? Sicuramente rifarò il TRN, non so con che vettura Ma di questi periodi è difficile avere ad ottobre già dei programmi per l'anno successivo Spero di fare qualche bella gara Continuare con le mie solite 7-8 gare in un anno E niente, di preciso ancora non so niente Un consiglio da appassionato agli appassionati Beh, mi raccomando, quando siete a vedere una prova speciale Cercate di non stare mai nelle vie di fuga O nelle traiettorie di un eventuale perdita di aderenza della macchina I rally sono uno sport molto spettacolare Che attira sempre tante persone Un consiglio è andare a vedere i rally in sicurezza Cercando di rispettare chi lavora Tipo gli ufficiali di percorso e noi piloti E di non correre quando si torna a casa Tipo gli ufficiali di percorso e noi piloti